onestamente non ho seguito il dibattito però io adoro la musica e mi piace giovanetti e se riuscissi andrei a vedermi volentieri un concerto diciamo che questo agosto e questo settembre tempo per i concerti tantissimo non ne avrò però chi dopo due anni di pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana ma solo aiutato e premiato poi non conosco le dinamiche l'ispettorato del lavoro conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti pagati e tutelati però fare polemiche ideologiche pseudo ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia mi sembra veramente triste ieri ero sul ghiacciaio del monte bianco parlato con le guide alpine di non c'è ideologia dice da investire in ricerca ci sono paesi al mondo che coprono i ghiacciai ci sono paesi al mondo che innevano artificialmente i ghiacciai quindi c'è da fare se uno pensa di salvare l'ambiente fermando i concerti di giovanotti vuol dire che è sbagliato che pire